Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma, code a tratti tra Calenzano e Il Vivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 rallentamenti per traffico intenso tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla A15 in direzione Parma, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto. Sulla Fipili per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano in direzione Firenze ci sono rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze in Pruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!